Allora, salve a tutti. Inauguriamo questa serie di video dedicati alla proctologia, alla colon proctologia, parlando della patologia più nota in ambito colon proctologico o proctologico, cioè la patologia emorroidaria. In questo video quindi parleremo di cosa sono le emorroidi, a cosa servono le emorroidi e quali sono i sintomi che una patologia emorroidaria può causare, riservando magari ad altri video quali sono i trattamenti più frequenti, sia medici che chirurgici, per trovare una soluzione a questa patologia. Allora, cosa sono le emorroidi? Le emorroidi sono delle strutture estremamente importanti che si trovano nella parte interna del canale anale. Spesso si parla di emorroidi interne, emorroidi esterne. Le emorroidi esterne sono in realtà delle piccolissime emorroidi che si trovano sotto la cute in prossimità dell'anoma, che non sono quasi mai causa di patologia se non in gravidanza, quindi direi di non parlarne, ma di focalizzare la nostra attenzione sulle emorroidi interne, quelle all'interno del canale anale, che sono oggetto molto spesso di fastidi. Cosa sono quindi? Sono una specie di salvagente, immaginate un salvagente, una struttura quindi circolare, che si trova all'interno del canale anale e che insieme muscoli sfintere anali svolge delle funzioni molto importanti. Qual è la funzione principale di questo salvagente emorroidario, di questo ring, che si trova all'interno del canale anale? La funzione principale è quella di mantenere una corretta continenza del contenuto rettale, quindi aria, feci, dell'ano. Dovete immaginare che funziona in maniera molto simile a come funziona una guarnizione su un balattro di melenzane, in cui c'è la guarnizione arancione, che forse tutti conoscete, e la molla che mantiene il tappo sul contenitore. Quindi l'interazione di una forza, la molla, che nel nostro caso sono i muscoli, e la guarnizione, che nel nostro caso sono le emorroidi, permette una perfetta continenza anale. Ma le emorroidi hanno anche altre due funzioni altrettanto importanti. La seconda riguarda la sensibilità. All'interno del tessuto emorroidario, più precisamente sulla superficie del tessuto emorroidario, nascoste sotto la mucosa, ci sono tutta una serie di cellule dedicate alla percezione del contenuto rettale, una serie di recettori. Chemocettori, cioè sentono le caratteristiche chimiche del contenuto, termocettori, caldo-freddo, e pressocettori, la pressione che il contenuto endorettale genera su queste cellule stesse. Grazie all'interazione di questi tre gruppi diversi di recettori, noi in qualsiasi momento della giornata siamo in grado di tenere sotto controllo e di sapere cosa c'è nel nostro retto. E quindi, quando ci viene uno stimolo, siamo anche in grado di capire qual è ciò che l'ha generato, se si tratta semplicemente di una puzzetta, quindi ci possiamo allontanare e poi tornare a fare quello che stiamo facendo, oppure la cosa è seria e dobbiamo tornare a casa, magari. L'altra funzione molto importante delle emorroidi è quella invece legata alla dilatabilità anale. Le emorroidi sono organizzate sotto forma di una specie di pants, un po' come le tende di casa, e quindi quando dobbiamo defecare, questa organizzazione permette una facile dilatabilità dell'ano e soprattutto della mucosa all'interno del canale anale senza che quest'ultima si strappi. Quindi le emorroidi sono delle strutture fisiologiche che abbiamo tutti, sono molto importanti perché permettono una corretta continenza anale, permettono una corretta dilatabilità anale e soprattutto, grazie al fatto che lavorano in interazione con dei recettori con cui il nostro cervello è in contatto, vi permettono di capire continuamente cosa c'è nel nostro retto e quindi organizzarci di conseguenza. Vi rimando a un prossimo video per delle informazioni riguardanti la patologia emorroidaria e il loro trattamento. Buona giornata!